Gli ultrassi invadono alla sede della società, si sembrano tra biti giù le mani dal Bassano. Il comune toglie le ture, dubbi sullo stato di avanzamento dei lavori al polo Santa Chiara. Incidente sul lavoro, Zaya convoca a tavolo tecnico e aggiunge la regione ha sempre investito soprattutto in formazione. Strada pericolosa, così ci ha rimesso entrambe le gomme con il racconto di una nostra telespettatrice. Scontro tra auto questa mattina a Cartigliano, grave, un automobilista. Volenza in famiglia, nuovo episodio dell'alta, calci e funghi alla moglie, arrestato. Coinvolti in una rissa, pensa bene poi di offendere le forze dell'ordine, condannato. Una sera ben ritrovati, questo è TG Bassano, l'informazione di Rete Veneta che arriva puntuale a raccontarvi quanto sta accadendo nel territorio. Partiamo dagli ultrassi, tifosi del Bassano che non ci stanno. Ieri hanno invaso la sede della società chiedendo spiegazioni sul futuro della squadra tanto amata. Vicenza e Bassano diventeranno una sola società e la stessa squadra di calcio. Tra quelle pronunciate da Mr. Diesel sono queste le parole che hanno fatto più male ai tifosi giallorossi. L'idea di perdere squadra è identità inaccettabile per chi domenica dopo domenica da anni sale le gradinate del mercante per tifare Bassano. Perché se anche ai più non piace si può ancora mandare giù l'idea che il re del jeans salvi il Vicenza. Ma nessuno ai piedi del Grappa è disposto ad accettare che i colori giallorossi si sbiadiscano fino a lasciare spazio solo a quelli biancorossi. Il problema è che per ora Renzo Rosso, intervista su carta a parte, non ha ancora ufficialmente dato modo di spiegare cosa sarà del Bassano. E allora i tifosi delusi ed arrabbiati hanno provato a capire qualcosa andando direttamente nella sede di Via Piave. Almeno una quarantena di persone tra fedelissimi e appartenenti al gruppo Grappa hanno suonato in sede dove ad ascoltarle hanno trovato solo Sara Vivian, responsabile marketing e comunicazione titolata solo ad ascoltare il loro sfogo. Gli unici che siamo un po' spaesati, che siamo lì, perché vorremmo spaccare il mondo e non sappiamo cosa fare, siamo noi. E vorremmo che sia una situazione che ci coinvolge tutti quanti, compresa tutta la città, che qualcuno della società ci desse abito ad avere un incontro. Anche tra gli stessi sostenitori giallorossi le anime sono diverse. I giovani del gruppo Grappa che uscendo hanno fatto esplodere la loro rabbia con un petardo. Non sono certo disposti a perdere la categoria, diversa la posizione dei fedelissimi che da decenni sostengono il Bassano. Noi non ne parliamo, noi vogliamo che rimani giallorossi qua. Che dopo che sia in prima, in seconda, in terza, non ha importanza, ma che rimani a rimanere qua, a Bassano. Noi con Vicenza siamo andati in trasferta, noi andiamo a trasferta a Vicenza, non la squadra nostra, non sarà mai. C'è più la delusione o più la rabbia? Tutte e due. Cerchiamo di moderare un po' la rabbia perché non ci aspettavamo così come un fulmino e c'è il sereno. Questa notizia per me onestamente non esiste. Vicenza è Vicenza, Bassano è Bassano. Giallorossi sono e giallorossi rimarrò fino a morte. Intanto stasera i tifosi diserteranno Reggio Emilia per trovarsi tutti assieme a guardare la partita in TV ai Trenti. Per il resto gli interrogativi restano molteplici e non solo per la prima squadra. Che fine faranno le giovanili? Cosa accadrà ai tanti lavoratori impegnati a far funzionare il mondo giallorosso? E soprattutto, cosa decideranno di fare gli altri soci del Bassano Virtus? Forse, per saperlo, bisognerà attendere solo la fine della stagione, sperando che per i colori giallorossi non sia davvero l'ultima. Vi faccio vedere questa curiosità. Ieri Renzo Rosso ha fatto un post sui social per commentare un'attività della sua azienda. Romeo, tifoso del Bassano, possiamo vederlo in onda, gli scrive Vogliamo il Bassano in B, no che il Vicenza ne approfitti. Ci pensi bene, signor Renzo, la prego. Questo è l'appello di Romeo con tanti cuoricini giallorossi. Renzo Rosso in persona ha risposto Bassano ha avuto la fortuna di avermi in esclusiva per 22 anni. Le nostre aziende sono sparse in tutta la provincia di Vicenza, dal nord al sud. Voglio essere riconoscenti a tutti loro e non solo ai bassanesi. Quindi questa risposta netta e chiara di Rosso che non vuole fare marcia indietro e naturalmente i tifosi sono preoccupati ed amareggiati. Vediamo il nostro tigilino aperto con l'aiuto della grafica. Ci hanno tolto tutto. Lasciateci il Bassano Virtus. Dite la vostra con una mail oppure un fax o un sms. I numeri e gli indirizzi li vedete. A proposito, restiamo sul tema. Altro aggiornamento. Il Tribunale di Vicenza, preso atto della proposta extra asta di Renzo Rosso per l'acquisizione del Vicenza Calcio, ha invitato i soggetti interessati a presentare una proposta di acquisto entro il 28 maggio alle ore 12. In caso di presentazione di più offerte, irrevocabili di acquisto, si terrà immediatamente una gara davanti al giudice delegato con rialzo minimo di 50 mila euro, partendo dalla base d'asta proposta da Renzo Rosso, cioè 1 milione e 100 mila euro. Parliamo del ponte. Il sindaco ha deciso, sarà l'amministrazione a levare le turea. Il comune alza bandiera bianca, nel senso che con Vardanega d'ora in avanti parleranno solo i legali. Nemmeno le ture riesce a togliere. Questo dovrebbe essere lo stato d'animo di molti componenti della giunta, che per il momento tengono la bocca cucita, perché vale la regola che si parlerà solo in tribunale. Il sindaco però ha deciso di prendere in mano la questione. Nelle prossime ore incaricherà una ditta terza che si occuperà della rimozione delle ture. È una questione di massima urgenza, visto il peggiorale della situazione dal punto di vista meteorologico. I lavori inizieranno al massimo giovedì. Intanto, nelle stanze che contano in comune, inizia a serpeggiare un brutto presagio per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori del polo museale Santa Chiara. Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che anche in questo caso la velocità di esecuzione non convinca a pieno sindaco e assessori. Il progetto Il Sogno di Beatrice sta avendo un grande successo, lo dimostrano i fatti, con la giostrina ma anche con una decisione presa in regione. Sentite. C'è comunanza di intenti e anche trasversalità. Davanti a un bollettino di guerra non si può che rimboccarsi le maniche e vedere di fare qualcosa perché questo bollettino di guerra non sia più tale. Quindi ho già convocato una riunione per lunedì, lunedì alle ore 11, cercando di mettere attorno al tavolo un po' gli interlocutori, d'accordo con il sindacato che ho incontrato ieri, appunto di trovarci attorno al tavolo. E da lì partire subito una fase operativa di chi fa cosa, di stabilire le linee di investimento per l'ulteriore formazione, i rapporti spisa, lavoratori responsabili della sicurezza nelle aziende, i controlli, insomma una dotazione organica di personale. Cercheremo di discutere assieme la ragione disponibile. Io non posso pensare che i miei veneti muoiano, i cittadini in generale per carità, che tutti i cittadini che lavorano in Veneto muoiano lavorando. Io non potrò mai accettare che qualcuno cerchi di far politica e strumentalizzare questi dati facendo credere al mondo intero che se hanno quattro trogloditi che non hanno mai investito sulla sicurezza sul lavoro. Quindi gli investimenti sono stati fatti, siamo anche in una regione molto operosa e molto piena di attività. Vediamo ad esempio che c'è un sacco di incidenti nel mondo dell'agricoltura. Questo ci fa capire che forse il tema della formazione rispetto ai cappottamenti dei trattori, le barre antinfortunistiche e quant'altro sono uno dei grandi temi. Ovviamente era il governatore Zaia che parlava di sicurezza sul lavoro. Ci sono stati diversi incidenti negli ultimi mesi e quindi è stato convocato questo tavolo tecnico per parlare proprio di sicurezza e di lavoro. Dal governatore Zaia abbiamo saputo anche quello che vi dicevo prima, cioè che la regione ha deciso di seguire un po' il sogno di Beatrice, diciamo così, e di investire per favorire l'inclusione al lavoro dei disabili. Sentite. Il sogno di Beatrice è quello di avere città completamente accessibili, senza barriere fisiche e ideologiche. Tra le barriere che i disabili purtroppo incontrano lungo il proprio percorso ci sono anche quelle che gli impediscono di accedere al mondo del lavoro. La campagna di Rete Veneta ha l'obiettivo di dare una mano anche sotto questo punto di vista e la regione sembra aver ascoltato i nostri appelli. A Palazzo Balbi hanno pensato di diversificare e raddoppiare le risorse per chi assume dei disabili. Gli incentivi sono stati estesi su proposta dell'assessorato al lavoro anche alle aziende medio-piccole e alle micro. Gli incentivi regionali, 5.000 euro pro capite, sosterranno le assunzioni a tempo indeterminato di disabili over 45 a bassa scolarità o con disabilità sensoriale. Agevolazioni regionali più consistenti, 7.500 euro, sono previste per le aziende che assumeranno disabili over 55. Incentivi sono previsti anche per assunzioni a tempo determinato di disabili a cui manchino meno di tre anni per maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia. Oltre ad alleggerire per un anno il costo del lavoro di contratti rivolti a persone con disabilità, la regione ha previsto anche contributi fino ad un massimo di 20.000 euro per quelle imprese che sostengono spese per abbattere le barriere architettoniche sul luogo di lavoro e per interventi strutturali e o tecnologici utili per rendere il posto di lavoro idoneo ad accogliere un disabile. Insomma, il sogno di Beatrice, che dovrebbe essere il sogno di tutti, con il passare dei giorni si sta concretizzando. Continueremo a batterci perché si realizzi a pieno. Adesso vi raccontiamo la storia che ci ha raccontato una nostra telespettatrice che ci parla di una strada pericolosa. Tombini pericolosi. La pressione dell'acqua esercitata dal basso li fa saltare ed è subito allerta per le auto, ma soprattutto motociclette che potrebbero finirci dentro con lo pneumatico. E questa è la minore delle conseguenze. E finché è una macchina va bene, ma una moto cosa succede? Cioè dove va a finire? Molto male. Nell'allagarsi il tombino si alza e si muove. Va fuori sede e chiunque passa va dentro al tombino. I tombini saltano come i birilli. La signora Donatella si dice tutto sommato fortunata. Lei nel tombino ci ha finita con le ruote dell'auto, prima una poi l'altra. Erano le 23 circa, pioveva di rotto, la visibilità quasi nulla. A un certo punto ho sentito un colpo fortissimo, la macchina si è inclinata verso il sinistra e ho sentito un grescopio ed era la gomma naturalmente. Ha accelerato nel tombino e finita anche la ruota posteriore. Scene piuttosto ordinarie oramai in queste strade di zona industriale. Il signor Cataldo, carrozziere, ne ha sistemati parecchi di danni di questo tipo. Sono capitate parecchie in questi ultimi tempi. Mi beccano dentro con la ruota e distruggono il cerchio, la gomma. Ma i guai a volte sono anche meccanici. La signora Donatella, per paura che potesse capitare qualche grave incidente, ha prontamente allertato gli uffici comunali di Bassano. E questa mattina il tombino incriminato è stato sigillato. Sono venuti, per quello, abbastanza in maniera celere. Hanno visionato, hanno visto la pericolosità, hanno chiamato subito Letra. Ma il problema va risolto in via definitiva e chi risiede da queste parti chiede periodici controlli. Monitorati periodicamente, almeno una volta all'anno, per evitare queste situazioni qua. Per non restare senza gomme. Brutto incidente questa mattina a Cartigliano. Vediamo. Rimane incastrato per lunghi interminabili minuti. Un 57enne di 9 è stato tratto in salvo dai pompieri di Bassano. L'incidente è accaduto questa mattina. Siamo a Cartigliano, sul ponte, direzione 9. Per cause, ancora al vaglio, si scontrano una Nissan Qashqai e una Lancia Y, guidata dal Novese. Arrivano i carabinieri di 9 e il Suem, che trasporta subito il primo conducente al San Bassiano. Il secondo resta imprigionato tra le lamiere della Lancia Y. Verrà liberato dai pompieri. Entrambe le persone hanno riportato ferite lievi. Momenti di paura alla scuola dell'infanzia di K. Baroncello a Bassano. Un cortocircuito ha fatto bruciare una lampada a soffitto di una delle aule. Le insegnanti hanno subito fatto uscire dal salone i piccoli e allertato i vigili del fuoco che si sono recati per un sopralluogo. Li stiamo vedendo proprio in queste immagini. Nulla di preoccupante, ma appunto momenti di paura vissuti dalle insegnanti e dai bambini. Andiamo avanti. Dopo quattro anni di lungaggini e di burocrazia, l'oasi del fiume Brenta torna a nuova vita. Visti sono abbattute tempeste e eventi freddi non soffiato a lungo, ma l'osi fluviale di 9, oggi semplicemente bagnata dalla pioggia, può finalmente guardare al sorgere del sole. Domenica 20 maggio verrà inaugurato un nuovo corso che punta alla socialità e alla condivisione per un oasi che vuol fare da scena viva ad eventi e incontri dei cittadini, adulti ma anche giovani e giovanissimi. Ci è voluto del tempo per fare le cose in ordine e fatte bene, una manifestazione di interesse a cui la cooperativa della voce social sport ha partecipato e vinto con un progetto di riqualificazione. Con progetti per tutta la comunità. Il parco è sempre stato fruibile grazie all'opera degli amici tutela del Brenta e ora veste un nuovo abito. Noi vogliamo che viviamo un nuovo abito, di trovare uno spazio dove le persone possono incontrarsi, possono avere iniziative culturali, ricreative, anche un semplice stare insieme per le famiglie. Domenica ci saranno gli aperitivi, appuntamenti musicali e lezioni di yoga, pilates e ballo. Si potranno decorare le ciotole cuore di nove. Con questo tipo di gestione, chiamiamola così, sociale, in cui la specie che tutte le associazioni del paese poi alla fine compartecipino alla vita dell'area assieme, chiaramente, alla cooperativa. Allora, vediamo il video girato, come sempre, dai ragazzi di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che testimonia una nevicata decisamente fuori stagione. Siamo a Cimagrappa, 15 di maggio, questa mattina la neve ha imbiancato il prato e le staccionate. Ha nevicato comunque in tutti i luoghi più alti delle nostre montagne Venete. Andiamo avanti, parliamo di novità che arrivano direttamente dall'Urs Pedemontana. La nuova conferenza dei sindaci dell'Urs 7 Pedemontana ha finalmente il suo regolamento. Ieri la votazione che ha deciso l'attribuzione della presidenza a rotazione tra i due presidenti dei comitati dei sindaci dei due distretti, Bassano e Alto Vicentino. Presidente è stato eletto dunque Riccardo Poletto, che rimane in carica fino al prossimo novembre, quando la palla passerà a Robertino Cappozzo, che la manterrà fino a maggio del prossimo anno. Nell'occasione sono stati nominati anche gli esecutivi dei due comitati dei sindaci e quello dell'intera conferenza, del quale per il territorio bassanese, oltre a Poletto, fanno parte anche Graziella Stefani, sindaco di Conco, Paolo Bordignon di Rosà e Massimo Pavan, primo cittadino di Moson Vicentino. Approvato il bilancio di latterie vicentine, la percentuale con il segno in più fa sorridere. 77 milioni di euro di fatturato, il 14% in più rispetto all'anno precedente. Chiude ancora una volta con il segno positivo il bilancio di latterie vicentine, che nel 2017 ha registrato una crescita importante del fatturato, di pari passo con la crescita della remunerazione dei soci, più 9%. Sono oltre un milione i litri di latte e prodotti dalla cooperativa nel 2017, nelle 400 stalle dei soci distribuite tra le province di Vicenza, Padova, Verona e Trento. Tra gli obiettivi 2018 di latterie vicentine, oltre all'aumento degli standard qualitativi dei prodotti e ad investimenti sulla tracciabilità della filiera, spicca la valorizzazione del comparto biologico, con l'aumento del numero di aziende agricole certificate bio. Nel prossimo servizio parliamo di sport, sport studentesco. Saranno oltre 250 gli studenti delle 8 scuole superiori bassanesi che si sfideranno venerdì sera al campo d'atletica di Santa Croce per il primo gala studentesco di atletica leggera, che segnerà il trofeo Gran Gala alla scuola che al termine di 8 prove, 100-400 mila metri, ostacoli, peso, lungo, disco e alto, avrà ottenuto il miglior punteggio assoluto. La manifestazione inserita all'interno degli eventi di città europea dello sport si pronuncia come una mini olimpiade, contento di sfilata delle squadre e accensione del tripode ad opera del vincitore della Maratona di Venezia, Iob Faniel. Il gala, che celebrerà anche i 70 anni di vita del gruppo atletico Bassano, si propone come prima edizione di una manifestazione che di anno in anno vedrà sfidarsi gli istituti scolastici cittadini, con i vincitori che rimetteranno ogni anno in pagno il trofeo. L'episodio di violenza in famiglia cittadella, ancora uno di episodio nella zona. Rientra a casa ubriaco e prende a calci e pugni la moglie. Si tratta di un 52enne di origine albanese, residente con la compagna e i figli minori in un paese dell'area di cittadella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La moglie è andata autonomamente al pronto soccorso. Contemporaneamente il marito è stato portato in caserma per ricostruire l'accaduto, quindi arrestato. Dall'archivio sono risultati a suo carico altri precedenti, tutti per comportamenti identici. Rimaniamo a Cittadella, coinvolto in una rissa, pensa bene poi di offendere, prendersela con le forze dell'ordine e viene condannato. Coinvolto in una rissa, offende gli agenti e reagisce al controllo, condannato ad un anno ed un mese. I fatti risalgono al dicembre 2014, quando due agenti della polizia locale di Cittadella, in servizio serale in centro storico, intervennero per sedare una rissa davanti ad un bar. Alla vista degli agenti, due persone fuggirono verso piazza Piero Bon, per essere poi intercettate in piazza Scalco. Uno dei due, un 21enne macedone, residente a Cittadella, riuscì a fuggire comunque e a far perdere le proprie tracce. Identificato grazie al sistema di video sorveglianza, il giovane, deferito alla Procura della Repubblica per resistenza ed oltreggio al pubblico ufficiale, è stato ora processato e condannato. Per lui, già condannato anche in passato per dati analoghi, è scattata anche l'espulsione dal territorio nazionale. Questa sera con il nostro direttore Luigi Bacialli ci saranno Renato Boraso, Maria Rosa Barazza, Andrea Ostellari, Maria Gomi Rato, Muri Ali Shek e Alberto Ruggin. Aspettiamo i vostri sms naturalmente. È veramente tutto per questa edizione di Figi Bassano, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata, ci vediamo presto. La frischezza dei formaggi locali, la trovi da Cherubin. Gran baby di capra, 13,90 euro al chilo. Ricotta di capra, 6,90 euro al chilo. Morlacco, 9,90 euro al chilo. Asiago di camazzole, 6,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. Nuvolosità irregolare con alcune schiarite. Sarà possibile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale, più che altro sulle zone montane dalla tarda mattinata e su quelle pianeggianti verso sera, con limite delle nevicate in moderato rialzo. Le temperature minime subiranno in pianura contenute variazioni di carattere locale e sulle zone montane un contenuto calo. Le massime aumenteranno. Da Cherubin, tutto il buono dei salumi nostrani senza conservanti. Carpaccio di Bresaola, 29,50 euro al chilo. Prosciutto artigianale di Modena, 21,90 euro al chilo. Pane, focacce e biscotti cotti a legna. Cherubin, a Bassano, via Goppi. Pane, focacce e biscotti cotti a legna.